Oggi pomeriggio a Mosciano Sant'Angelo, tante corone bianche ai funerali del giovane detenuto Patrick Guarnieri, morto suicida nel carcere di Teramo. Tutta la comunità rom presente alle seque del ventenne di Mosciano Sant'Angelo, trovato impiccato nella sua cella dell'istituto penitenziario di Castrogno, all'alba di mercoledì scorso 13 marzo, il giorno del suo compleanno. E non è stata di certo casuale la scelta di adornare con gerbere bianche sia la bara che le tante corone che nel primo pomeriggio di oggi hanno sfilato dall'abitazione del ragazzo fino alla chiesa di Mosciano Sant'Angelo. Un lungo corteo cadenzato anche dalle note della banda musicale, che hanno accompagnato il feretro coperto con i fiori simbolo della margherita perfetta e della giovinezza che vengono spesso donati per festeggiare i compleanni. Per gli antichi egizi, la gerbera era il simbolo del dio sole e dell'avvicinanza del cielo alla terra. L'autopsia, disposta dal pubblico ministero mogna di Marco e eseguita ieri dall'anato patologo Giuseppe Sciarra, ha accertato che il decesso è avvenuto per asfissia da impiccamento. Confermata dunque l'ipotesi del suicidio, mentre esclusa la presenza sul corpo di contusioni o echimosi e di qualsiasi altra lesione che possa far pensare a una violenza subita dal giovane ad opera di terzi. Sono stati eseguiti anche esami tossicologici e prelevati campioni di pelle sotto le unghie del giovane ragazzo. I risultati saranno riconsegnati al pubblico ministero tra 60 giorni.